Io sacrificherei volentieri un 3% di consenso per ogni riforma portata a casa, sapendo che poi quel consenso probabilmente verrà raddoppiato nel momento in cui quelle riforme avranno un effetto sulla popolazione. Quindi fa bene il momento 5 Stelle da restare al governo? Penso che debba rimanere al governo fino a quando potrà portare a casa le riforme per cui è stato votato. I fiumi balneabili, a cominciare dal Tevere, piacerebbero a tutti, ma lei davvero pensa che il contrasto tra Di Maio e Conte sia sui fiumi balneabili? C'è un contrasto politico, stare con il PD o non stare con il PD, stare al governo o stare all'opposizione? Io penso che questo tema non mi appassiona per niente, a me appassiona parlare di progetti, di obiettivi, di temi, fino a quando è solo una questione di tifoserie a me non interessa. Che ruolo ha lei nel momento 5 Stelle, reale? Non so se sia l'uomo più potente d'Italia come dice il New York Times, ma insomma diciamo che non è soltanto un prestigioso esperto informatico. Politicamente quanto pesa lei? Avrà sicuramente ragione il New York Times.